Le casse degli enti locali sono sempre più asfittiche. A ciò si aggiunge il fatto che la Regione Sicilia, ancora a settembre, non ha dato certezze sui trasferimenti per l'anno corrente, nonostante la legge preveda che il riparto debba avvenire entro il 15 aprile di ogni anno. I comuni siciliani si trovano così a dovere garantire i servizi, soprattutto quelli per le fasce più deboli, senza alcuna certezza finanziaria. Per questo, la Giunta Comunale di Balestrate, guidata dal sindaco Vito Rizzo e insediatosi da circa tre mesi, ha deciso di ridursi l'indennità del 40% fino al termine del 2017. Le risorse accumulate grazie a questa lodevole iniziativa saranno utilizzate esclusivamente a favore dei soggetti svantaggiati che vivono sul territorio balestratese. Voglio ringraziare gli assessori e il vice sindaco, ha detto il primo cittadino Vito Rizzo, per l'immediata e piena disponibilità alla proposta avanzata. Non cambia nulla, invece, per quanto riguarda i gettoni di presenza dei consiglieri comunali di Balestrate. Rimarranno infatti tali e quali. L'unico ad avervi rinunciato fin dalla prima seduta consigliare è stato Rosario Vitale, che ha deciso di devolvere interamente le somme a lui spettanti, alla Chiesa Madre e alle sue molteplici attività sociali, culturali religiose.